Musica Ritorna tra le righe, incontro con l'autore, ritorna nei nostri studi, l'accogliamo davvero con grande piacere Stefania Perna. Ciao, ben trovata Stefania. Questa settimana per presentare un libro, beh voglio dire che ti riguarda un po' più da vicino, non che gli altri non lo fossero, però questo è più personale, diciamo anche un po' più biografico, perché è il diario di Elena, 40 anni, perdersi o ritrovarsi, edito da ancora editrice. Molto bella la foto di cui poi magari parleremo di questa donna che sta attraversando, non so se sia un ponte tibetano o cosa, però è un ponte tibetano. Io solo a vederla mi vengono le vertigini, solo a vedere la foto della donna che sta tentando, però vediamo che poi più avanti, già che ci siamo va, diciamola, commentiamola questa foto. C'è proprio l'idea della vertigine, perché infatti vedi che il sottotitolo è 40 anni, perdersi o ritrovarsi, e volevo dare l'idea della vertigine che c'è anche nella canzone di Giovanotti, che dice la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare, e quindi è proprio un po' quello il senso. Poi sì, c'è una persona che guida un po' i passi di quella donna, e perché in effetti nel diario di Elena, diciamo, parte tutto un po' anche, cioè si parla molto di una persona che accompagna attraverso la confessione, attraverso, quindi con una serie di consigli. Diciamo che questa Elena è un pochino autobiografica, perché ovviamente... C'è un po' tu, qua Elena un po' Stefania. Ovviamente che i 40 anni sono un momento particolare, io penso, nella vita di ogni donna, perché è un'età in cui uno un po' ha raggiunto una serie di obiettivi, magari di lavoro, di sposarsi, magari anche di figli, insomma, quindi la vita comincia a essere, come dire, non dico piatta, ma insomma, hai bisogno di trovare qualcosa che ti dia, no, che ti dia la forza di andare avanti, di rinnovarti, di essere sempre contento di quello che fai, e invece magari ci sono tanti problemi pratici, no, di organizzazione di qui, di là. E quindi la Elena inizia, nelle prime pagine, proprio dal trovarsi di fronte appunto alla routine quotidiana, e più al fatto che è credente, che paradossalmente per lei è un peso in più, perché dice, vabbè, io essendo credente, ancora di più so tutte le cose che dovrei fare, come le dovrei fare, e non le faccio per niente, no? Quindi dice, oh, quest'altro peso! E allora parte di là, dire, ma la fede allora è un peso, oppure no? E quindi affronta questa cosa con appunto un sacerdote che la segue, poi tutto un percorso appunto, un ponte tibetano, è tutto un ponte tibetano, nel quale, però, davvero, ho come l'impressione che ogni donna, anche chi sta quasi lì lì per raggiungere i 40 anni, diciamo, ecco, questa metà si riconosce, ci si riconosce. Però, non so se lo dici, mi sa che forse lo è scritto nella prefazione, è un libro dedicato anche agli uomini. Sì, lo dice il sacerdote che ha scritto la prefazione. Lo dice, ecco, nella prefazione. È un libro anche dedicato agli uomini, per conoscere un po' meglio le donne. Per capire meglio le donne, sì, perché il libro magari parla maggiormente alle donne, però per un uomo leggerlo significa anche entrare in tutta una serie, perché poi è un libro molto concreto, cioè, tolto l'inizio che parte da questo problema, proprio di sentirsi incapaci, insufficienti, inadatti, eccetera, poi si sviluppa attraverso tante piccole cose quotidiane, perché ci sono anche dei paragrafi, non so se hai visto, cambio di stagione, per agosto festa in famiglia, cena di colleghi, insomma, quindi sono tutte situazioni della vita di ognuna in cui, appunto, ognuna si può ritrovare. Che ha la vita di un'altra donna, di un'altra quarantena, che è appunto di un'altra Elena, in questo caso. È stato difficile, perché appunto, comunque ci sei tu in questo libro, ma anche negli altri libri, sì, però qui particolarmente, perché essendo un diario, è stato difficile mettere nero su bianco emozioni, ansie, paure, perché sono cose che comunque viviamo, sono cose che sentiamo, però poi magari vederle scritte, no? È una sensazione diversa. Sì, e comunque scrivere tante volte anche aiuta, perché poi l'idea di fondo che anche c'è in quel libro, che tante volte noi, soprattutto le donne, ma penso tutti un po', siamo spaventate dai nostri limiti, e quindi il grosso problema è che a volte uno cerca o di mascherarli o di buttarsi in tante cose per non vederle più, insomma ci sono vari tipi di reazioni, e invece poi accettare il limite, e diciamo così, è veramente essere liberi, diventare liberi, no? Quindi è quel volare, che è anche il volare della fede, perché poi la fede ci insegna a quello proprio. Cioè il limite devi cercare di superarlo, però mi sembra forse che lo dico qui, o non ricordo se fosse in un altro libro, il limite dove essere limite, cioè dove esercitare l'amitezza, l'amore anche verso di te. C'è una pagina sicuramente. Mi sa nell'altro libro, a proposito dell'umiltà, facendo riferimento all'umiltà. Sì, perché appunto il diario è tutt'uno con le preghiere, infatti anche qui ce n'è una o due. Qui c'è una preghiera alla fine soprattutto, non so se l'hai vista, una preghiera mia, che è un tedeum poi, perché è la fine dell'anno. È un ringraziamento. Rifletto prima sui classici rituali di fine anno, che poi è un momento molto particolare, che magari si sono tutti familiari, quindi insomma c'è una riflessione proprio sul fine anno. E poi, siccome è come un percorso che io faccio, lo concludo con questo tedeum, che è appunto un momento di preghiera, nel quale vedo tutta la positività del cammino fatto comunque. Bene, ottimo, quindi c'è un lieto fine. Sì, diciamo che c'è un lieto fine. Anche se è aperto, come dico. È aperto, esatto. Ho preso questo appunto. 30 agosto, pagina 89, la confessione dono per rinascere dall'alto. La bellezza di riscoprire il sacramento della confessione, della riconciliazione e il ruolo del confessore. E questo lo dice anche nella prefazione. Dice proprio che un tempo tutte le regini avevano il loro confessore, no? Mentre invece adesso magari, non che sia sovrapponibile il confessore allo psicologo, ma c'è tutto un ricorso anche a questa figura, proprio perché l'accettazione del limite che comunque anche la psicologia ti propone, oggi non c'è più. Invece appunto il credente ha aiutato anche in questo, perché a volte noi pensiamo che la fede venga come a schiacciare la persona, oppure invece è proprio una liberazione, cioè a livello profondo molte esigenze anche della psicologia, per esempio di diventare bambini, che non è bambineggiare ovviamente. Esatto. E anche questo è anche nella psicologia paradossalmente, no? Proprio perché il Padre Eterno ci ha creati e sa tutto anche della nostra psiche, diciamo. Molto bello questo capitolo appunto sulla confessione. E tu scrivi, Carla dice addirittura che la confessione porta alla malinconia, ma io non credo che tale sentimento sia negativo, anzi appunto c'è qualcuno che ritiene che la confessione porti alla malinconia, ma non è assolutamente così. Poi volevo anche, questa è una cosa che secondo me abbiamo pensato un po' tutti, 29 ottobre, siamo a pagina 130, regalo di compleanno. Da qualche tempo la mia festa di compleanno non mi rende molto felice, quando eravamo piccoli invece, immagina, no? E adolescenti non vedevamo l'ora che arrivassi il giorno del proprio compleanno, anzi quei 18 anni erano lì pronti ad essere festeggiati. Non arrivavano mai. Non arrivavano mai. E' una cosa forse un po' banale che dicono tutti, superati 18 è una discesa a capofitto. Però poi dovremmo anche un po' riscoprire la bellezza del festeggiare, ma non proprio il giorno del compleanno, ma proprio la vita, no? Quello che abbiamo e che riceviamo quotidianamente. E sembra anche perché poi col passare degli anni comunque diventi sempre molto più saggio. E' vero. E questo è un patrimonio grosso. Ma anche più saggio. Più saggio, più saggio, diciamo questo. Questa cosa è terribile. E mi piace anche quest'altro passaggio. Questi momenti quotidiani sono soste necessarie per ripartire alla grande, pit stop indispensabili per non sprecare davvero il tempo e rischiare incidenti gravi. Se ti ricarichi riesci a guardare con altri occhi i capricci dei figli, la noia della fila al supermercato, le parole fuori luogo dei colleghi di lavoro, le lamentere di quell'amica che ti parla dei suoi problemi e tante altre cose della vita. Quindi la bellezza proprio anche di avere dei pit stop, dei momenti in cui ricaricarsi. Cito anche, ci tenevi, che appunto questa frase di Carlo Carretto, L'uomo scopre ciò che è una povera cosa, un essere fragile, debole, un insieme di orgoglio e di meschinità, un incostante, un pigro, un illogico. Ci va pesante, però è vero che ci sono dei momenti nella vita in cui, cioè ripeto, 40 anni può essere una data indicativa, sono l'età in cui tu fai dei bilanci. In genere dopo i 18 si va sulle date tonde, no? I 40 e i 50. Sì, 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 è così. Ecco, quindi è un po' quello, no? Il momento... È un po' tutto, forse ho passato... no, vorrei... Forse davvero i 40 anni sono un momento importante, quasi una grande data liturgica della vita, data biblica, data del demonio meridiano, data della seconda giovinezza, data seria dell'uomo. Eh sì, appunto, in questo senso. È proprio così. È la data in cui Dio ha deciso di mettere con le spalle al muro l'uomo, che gli è sfuggito fino ad ora. Dietro la cortina fumogena del mezzo sì e mezzo no. Quindi, ai 40 anni bisogna prendere, come dire, una decisione. È una strada, forse più ancora che da giovani. Perché da giovani, siccome hai molte mete anche, diciamo, umane, ottime, davanti, tipo appunto la laurea, il lavoro, il matrimonio, i figli, sono tutte mete. Però una volta che le hai raggiunte tutte, è lì è proprio un momento in cui non sfuggi più. Per trovare il senso della vita, non puoi più poggiarti tanto su cose materiali. Oddio, lo puoi anche fare. Però non sono più quelle grosse mete che ti riempiono, no? Quindi è proprio un momento in cui, se riesci a prendere il treno della fede, diciamo così, parti per un viaggio nuovo. Mi piace il treno della fede per partire per un viaggio nuovo. Parola di Stefania Perna. Ricordo anche che concludi con questo tedeum, questo inno, questo ringraziamento. È una specie di dialogo, diciamo, quasi fra me e Dio. Perché c'è una parte in cui io rifletto e una parte in cui Dio in un certo modo mi dà delle risposte. Dio dà delle risposte e dice, se posso io Dio scendere nella tua carne, nel cammino che segui, nella vita che vivi, nel tuo quotidiano, nei tuoi limiti, dura prosa ancora per poco, finché mi lasci alla porta a bussare, poi tutto potrai rendere divino, eterno, Eterna poesia d'amore. Eh sì, questo è il messaggio che voglio lasciare, diciamo, nell'ultima parte. E con il quale appunto si conclude il diario di Elena. Una meditazione, una storia, una conversione, un percorso interiore. Questo libro è tutto questo. Edito da Ancora, firmato da Stefania Perna. Che ringraziamo per essere tornata nei nostri studi e per averci permesso appunto questa piacevole chiacchierata e condivisione di riflessioni e di pensieri. Grazie ancora e grazie a voi tutti per averci seguito anche questa settimana. Tra le righe torna come sempre la prossima. Tra le righe torna come sempre la prossima.